Ma su cosa adesso decidiamo? Perché le zone di un'azio urbanistica possono essere anche diverse. Il centro del territorio comunale non è mica tutto uguale, ma ci sono anche due zone per un'azio urbanistica diverso. Fammi finire molti, per contesità. Però, cosa vuol dire dire che il territorio comunale è diverso? Certo, non siamo mica sciocchi, lo vediamo tutti. E anche il capogruppo del PD di Gnani, non siamo mica... ...sciocchi. Ma lei l'osservazione del PGT l'ha letta. E' anche il presidente della commissione, doveva averla letta questa qui. Perché se non siamo sciocchi, già all'epoca qualcuno aveva segnalato che in quella del libera i contenuti non aveva... Le avete ripresa e messa nel PGT che l'avete approvato voi, non è un po' da sciocchi questo. Perché è proprio la prova matematica, algebrica, magari ti sbaglio? La dimostrazione per assurdo si chiama, giusto? In matematica. Quando dici una cosa e fai l'esatto contrario, non siamo sciocchi a ritenere che è una zona sola. L'hai appena votata nel PGT. Allora sei sciocco. Magatti? Mi supporti? È così? Dimostrazione per assurdo. Di conseguenza, di conseguenza, di conseguenza, io che non sono sciocco, o non credo, fino a che qualcuno si ascia e me lo dice, poi mi dimostra, ritengo, ritengo, che sia assolutamente chiara l'indicazione. Io sono un politico, ok? Rappresento il popolo, potrei neanche avere la terza media, parlare con i se avrei, eccetera, eccetera, dire un sacco di scorreggiute, ma sono un rappresentante del popolo, non devo essere un tecnico. E voto da rappresentante del popolo. E il popolo tutto, in questo momento, sa che Como non ha una sola zona di rilevanza urbanistica. E non è omogenea, ma è eterogenea. I tecnici li uso per i miei pareri, ma decido io, perché io sono il popolo. Parere favorevole.